Allora ragazzi, io proclamerei, prima di cominciare il 4 novembre, come giornata mondiale del Mental Breakdown. Di tutto è successo oggi. Dio c***o che merda. Daie però che merda. Meglio. Di PCM. Presidenziali. Di DDDDLZAN. Di DDDDLZAN. Tutto praticamente. Buonasera a tutti ragazzi, buongiorno, ciao. Ciao, mai caro in podcast, bentornati a questo grossissimo e specialissimo Mental Breakdown ancora non sanno chi è qui con noi, lo scopriranno presto. Qui con me Andrea. Buonasera. Jack. Bella. Il Torres. Bella. E il maestro, che non è il super ospite ragazzi, attenzione. Buonasera a tutti ragazzi. Ragazzi, abbiamo una scaletta piena zeppa di Hot Topics e io direi di cominciare da quello che abbiamo sentito poco fa, che è l'ultimo DPCM del nostro Premier Conte. Ragazzi. Posso annunciarlo io? Assolutamente sì, perché io lo farei. Vai Jack, vai. Sì, allora, per tutti quelli che non hanno capito nulla del DPCM raccontato da Conte in TV, abbiamo invitato proprio Peppe Conte qui con noi, che ci illustrerà passo dopo passo cosa consiste in DPCM. È stato difficile averlo, ma Michael Olin Podcast ormai ha questa potenza nella società italiana. È appena uscito da Palazzo Chigi, a Monteggitorio, lo cazzo sta. Lo salutiamo e gli diamo il benvenuto. Bella Peppe. Buonasera ragazzi, grazie, è per me un piacere essere qui con voi, ci leggo innanzitutto a spiegare al popolo italiano, al popolo podcastiano, possiamo definirlo, il perché io ho deciso di venire qui e fare questo viaggio in fretta e furia a Monteggitorio. Dicci tutto Peppe, perché? Sono qui perché voglio semplificare un po' quello che ho detto poche ore fa alla televisione, che onestamente ho capito poco pure io e non biasimo tutti quelli che non hanno capito niente di quello che ho detto. Sono partito dicendo subito che il po' crifuoco sarebbe iniziato alle 21 e invece era subito una cazzata perché inizia alle 22, ecco, questo è il motivo della mia presenza. Ma non ha scritto lei, signor Conte, il DPCM? Allora, questa è la domanda che mi viene posta spesso. Beh, il DPCM mi è scritto da me, ma soprattutto in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico, che in italiano significa semplicemente il Comitato Tecnico Scientifico. A volte provo piacere, ecco, nel divorare parole non mi esce proprio bene, però non dipende solo da me, ecco. Quindi, signor Premier, ci riassuma brevemente il contenuto di questo ultimo DPCM? Allora, diciamo che la parola chiave, se mi passai il termine e non vedo perché non dovreste farlo, di questo DPCM è coprifuoco. Ecco, prima ho detto poco di fuoco, poco cambia. La sostanza è che dalle 22 alle 5 non voglio vedere un cazzo di nessuno in giro. Dovete restare dentro casa, in qualsiasi regione, voi vi troviate, che sia arancione, che sia rossa, che sia gialla, che sia fucsia. Infatti qui Peppe, per due l'interruzione, mi ha scattato la mia prima domanda. Perché è stato eliminato il verde? Che era un bel colore, cioè, tranquillizzante. Esatto, quando ho scoperto che le Marche erano zona verde, ho detto vai cazzo, zona verde, buono. Io mi sono rasserenato. Signor Premier, perché vuole giocare con la nostra psiche, in questo modo? Sotto con i nostri colori. E con i nostri colori? Potrei tergiversare a lungo, nel arrivare a una risposta concreta. La verità è che verde significa speranza, e di speranza non ce ne sono. Beh, al governo c'è speranza, eh. Perfetto, perfetto. C'è il ministro. che sicuramente avrà delle sue competenze, delle sue importanze all'interno del comitato decisivo, ma non è questo. Insomma, il verde sarebbe significato che la situazione è effettivamente tranquilla, e così non è. Ci sono delle criticità che accomunano il nostro paese, il nostro magnifico, giungo io paese, e in questo momento c'è da prestare particolare attenzione. Ecco, il motivo di questo nuovo DPCM a distanza di qualche ora dal precedente dipende un po' da questo. Ecco, sto iniziando a giocare, salvando sul mio computer dei file come DPCM ultimo, DPCM prossimo, DPCM finito, DPCM ooo, perché non riesco più a dare un nome a queste cartelle su DPCM, ma la verità è che mi piace cambiare un po' come le scale di Harry Potter, ecco. Via con le domande. Via con le domande. Raga, ringraziamo l'apparizione del nostro Premier che adesso può ritornare nelle sue vesti e continuare questa puntata. non so quali siano queste sembianze, non so di cosa voi stiate parlando, io sono Beppe Conte in persona e faccio fatica ad impersonarmi in qualcun altro, ecco. E allora, signor Premier, vorrei dire di continuare con il prossimo topic, cioè la seconda cosa più importante del suo DPCM, del suo discorso di questa sera, che sono le presidenziali americane, insomma. Per chi ha votato, rei, signor Conte? Allora, allora, vorrei partire da un presupposto, abbiamo già parecchi problemi in Italia, mi sembra fuori luogo parlare di altri paesi che sono messi comunque meglio di noi, ecco, nonostante... Beh, però l'America da un punto di vista Covid non se la passa molto bene. Allora, diciamo che decazzate ne sono volate anche là, perché l'idea di Trump di iniettarsi della mucchina, dell'igienizzante nelle vene non è proprio una furbata, però diciamo che anche da noi gira ogni tanto qualche topic del genere, qualche uscita fuori luogo, perciò perdoniamo tutto al Presidente americano, ecco. Bene, bene, bene. Ma, insomma, chi ha votato, però questo ancora non ce l'ha detto? Allora, credo che dopo uscite infelici, come quella che ho appena citato, sia d'obbligo buttarsi dall'altra parte, da... Bill Laden? Bill Laden, come è stato definito da qualcuno, non so bene per quale motivo, però diciamo che Biden al momento sembra l'alternativa, anche perché è l'unica effettivamente concreta a Trump, che ultimamente, insomma, non ha perso l'occasione per fare dell'uscita infelice. Per fare figure di merda. Il suo ex, uno dei suoi ex bracci, non so se destro o sinistro, il suo ex amico Matteo Salvini, che stamattina ha fatto un post di solidarietà nei confronti di Trump con un forza Donald, in caps lock, prendere distanze da questa forma di supporto e sostegno. Come ho appena detto, di cazzate ne abbiamo dette tutti, questa è una di quelle, insomma, più grandi... Il buon Matteo non ha perso occasione per... Per dimostrare, per dimostrare la sua intelligenza al mondo. Sì, sì, diciamo che non è nemmeno la cosa peggiore che lui ha detto in queste strade in cui ha negato continuamente il Covid, cito anche un vecchio meme, posso abbassarmi la maschina? No, non posso. Ah no? Ah, non posso. Ah, non posso. Non posso, quindi ecco, diciamo che nemmeno mi sorprende più... Agliscono col paure della notte. Maestro. Eh, sì, 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 sì. Maestro Lecchio è la mia testa che non so cosa sta facendo, probabilmente. Però, no, un secondo, io prima vorrei chiedere sempre a Peppe, adesso poi sì. Però no, c'è una domanda molto interessante da fare a Peppe. Ma come ha visto lei il fatto che Trump abbia fatto un po' come i bambini elementari, no? Perdo e ruba. Hanno rubato. Hanno rubato. Come quando giochi a FIFA, no? Che ti fanno il gol senza senza. Colpa del gioco. Ma questo gioco ruba. Sì, mi sembra sia una tattica piuttosto infantile, ecco, quella di Trump. che ha deciso che ha fatto lui la regola del gioco, poi l'improvviso ha deciso di non giocare più e che voleva cambiare di nuovo la regola. Ragazzi, Trump ha portato il pallone e ha perso la partita e il pallone se lo riporta a casa e non gioca più nessuno. Sì, è una cosa che sinceramente ha sorpreso anche me perché dire che il voto non è valido, i voti sono stati truccati, quando, insomma, si è andato anche lui al governo in questi anni, si è andato anche lui, è diutato anche lui il Presidente dell'America, qualche altro errore, insomma, è stato fatto in questo conteggio, perlomeno nei quattro anni precedenti. Criticità anche in America. Criticità anche in America, criticità anche in America. Io volevo sentire il maestro, raga, perché sennò il Premier si stanca, cioè non vorrei mai che iniziasse a sudare o percepisse la tensione di questa puntata al cardiopalma. Premier, la facciamo riposare qualche minuto, giusto il tempo di far rispondere il nostro amico Riccardo. Il resto è a disposizione. Il resto è a disposizione, perfetto. Allora, qual è la domanda? Riformuliamo la domanda. Per chi tifa, maestro, in America? Squadra tifa? I buoni o i cattivi? Non ci sono né buoni né cattivi. I suprematisti bianchi o i… No, sono tornati della stessa medaglia. Su chi tifo non dico chi tifo, perché in realtà non tifo nessuno. Perché non c'è il Partito Comunista, solo per questo, maestro. No, questa la tagliamo. No, 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 no. Questa la tagliamo. Questa rimani. Sarebbe un po' strano che in America ci fosse il Partito Comunista a combattere. Appunto, per questo lei non ha votato, non si schiera. Non l'ho votato perché non sono cittadino americano, dottore. Ma non saprei, nella sua vita precedente probabilmente sarà stato qualcuno, qualche americano, un pioniere, no? Sì, sì, sì. Sì, sì, Abramo mi chiamavano nell'altra vita. Abramovic. Abramovic. No, diciamo, ricollegandomi all'ultima cosa detta, è grave. Secondo me sono gravi le dichiarazioni che ha fatto Trump, anche perché dall'emblema, dalla nazione che fa del proprio emblema la democrazia come forma più alta e più pura. Tanto da esportarla con carri armati in tutto il mondo. Allora, questo è un altro discorso. Al suon di bombe. La prima persona che l'ha detto è il presidente Wilson, dopo la Prima Guerra Mondiale. Da lì hanno cominciato a ripetere questa favoletta. Noi esportiamo democrazia. C'ha dell'opinabile, quantomeno. Vorrei farmi un giro nel Maghreb e chiedere che ne pensano. È una democrazia americana. Magari, ne so, faccio un giro in Siria oppure in Libia. In Libia. In Libia, a Tiburtina. A Tiburtina, via Libia. Sì, se vorrei chiedere la politica estera dove va, ma cosa ne pensano. Però adesso, al di là di questo, so delle dichiarazioni gravi secondo me perché, come dire, come diceva lui, l'ha detto è un attacco alla democrazia, eccetera, eccetera. In realtà è molto più grave le dichiarazioni che fa. È la prima volta in assoluto che un presidente in carica già parla di riconteggio per quanto riguarda alcune votazioni di alcuni stati. Ha dichiarato vittoria. Sembra che si sia fortificato dentro la Casa Bianca, come della serie. Io da qui non me ne vado, cacciatemi. Io da qui non me ne vado. Sì, sì, sì. Era un fortino? Sì, lui si è barricato in casa. Non so, mancano i pretoriani, manca la scorta personale dell'imperatore. Dopodiché ci sono tutti gli elementi, insomma. Però sono dichiarazioni che secondo me, tra l'altro, mineranno qualunque sia il vincitore, la carica del vincitore, perché se si parla di brogli in questo contesto e addirittura chi lo muove è il presidente in carica, che è una cosa insolita, è una cosa grave. È una macchia, è un'ombra che probabilmente rimarrà su qualunque delle due fazioni, diciamo, o qualunque delle due frazioni prevarrà. E secondo me, quando diceva che è un attacco alla democrazia, o comunque sia qualcosa che fa male alla dimensione della democrazia, sono d'accordo con Trump, ma probabilmente ci abbiamo motivazioni diverse con lui. E invece, maestro, lei cosa ne pensa di Biden, giusto? Di Biden. Di Biden. Perché io ho letto qualche articolo e me l'hanno praticamente presentato come un malato d'Alzheimer, tanto che addirittura... Lui spesso viene presentato come in questa dimensione un po' geriatrica. Sì, ma tanto che addirittura è stato presentato come uno che addirittura non arriva manco alla fine del conteggio, che muore prima. Raga, oggi ho visto una foto di Biden, sembrava uscito da Top Gun, con i suoi occhialetti, i pantaloni con i tascoi, l'occhialetto a goccia. Fantasco. Mi immagino Trump maestro nel fortino con i suoi bimbi sperduti nell'isola che non c'è, che si difende da Capitano Uncino, cioè me lo vedo proprio nascosto là dentro la Casa Bianca. Quindi, riassumendo le presidenziali, so, un malato d'Alzheimer contro un bambino che gioca a palla. Col bacco, con la pelle di volpe. Esatto. Però, però, se c'è qualcosa che apprezziamo è quella maglialona di Lady Gaga che si è esposta politicamente e ha appoggiato Bill Allen. E io, guardate, apprezzo Lady Gaga. Ottimo spunto, Torres. Premier, poi torniamo da lei. E io ho una domanda che ancora mi conservo, però prima volevo agganciarmi a Mauro e sollevare una questione. Ne parlavamo con Andrea ieri mentre tentavamo di studiare. No, era a colazione. Era a colazione, ormai non so più che giorno è, in che momento aggiornata siamo. E dicevamo che in Italia se sei un personaggio famoso e ti esponi politicamente sei un coglione o non lo fai perché hai paura di perdere la tua fanbase, tra virgolette. Quindi è quasi una colpa. Esatto. E vieni anche accusato di voler dirottare i tuoi follower. La massa. Esatto. In America, soprattutto, correggimi se sbaglio, Jack, tu te ne intendi un po' più di me di cultura americana. Sì, io ho scritto svariati libri. Trattati, sì, sì, piccoli saggi. Sì, sì. Mai come quest'anno... I ragazzi di Harlem. I ragazzi... Quei ragazzi dello zoo di Harlem. Mai come quei ragazzi. Mai come quest'anno i personaggi famosi si sono praticamente schierati contro una fazione politica, sbaglio? Ma infatti questa è un'ottima questione, ne avevamo già parlato nel Mental Berkita... Eh? Come? Come? Propri fuoco. Sì, nel Mental Breakdown che feci con Il Buon Onore e Sagri. In America c'è una visione completamente opposta della politica, cioè... Meno contenuto, meno storie, ma più che altro è l'influenza. E questo rispecchia un po', secondo me, la visione dell'America, no? La terra dell'opportunità in cui chiunque può diventare chiunque in Italia. Cioè, pensavi mica tanto perché uno che vendeva bibi da San Paolo è diventato ministro. Sì. Beh, direi che abbiamo anche un caso dei sogni americano a Napoli. Ringraziamo Gigi. O in Parlamento, o in Parlamento, insomma. Vabbè, a Napoli. Ringraziamo Gigi. Quindi anche noi, ecco, direi che ci stiamo aprendo verso una concezione della politica molto più americana. Lei che ne pensa, Peppe, del suo collega che ha realizzato il sogno americano, che ormai è diventato il sogno napoletano? Sogno partenopeo. Guardi, io in realtà le dico una cosa. Una delle classiche modalità di risposta, soprattutto nella politica italiana, è quella di ricevere una domanda e dare un'altra risposta. Quindi questo è quello che vorrei fare in questo momento. Un recusazio. Signor Premier, lei peschi una risposta dal suo deck. E la metta in posizione di difesa. O di atta. Sì, sì. Una carta trappola per il Premier Premier. Ne parleremo domani con l'opposizione. Perfetto. Bene, bene. Tutto chiaro, grande. Ringraziamo Peppe. Io direi di tornare in collegamento dalla White House con il nostro inviato speciale Riccardo Renzi. Vai, maestro. Lei che ne pensa su questa cosa dei personaggi influenti nella società italiana e nella società americana, dove da una parte c'è totale... Non omertà, non la chiamerei omertà, però ognuno si fa i cazzi suoi per paura di perdere consensi, ma nel suo cerchio di competenza, mentre in America, mai come quest'anno, dal giocatore di basket al cantante a chiunque che abbia un minimo di seguito, ha spinto proprio tutti i propri followers o i propri, insomma, fan a, da quello che ho visto io, dare contro Trump, insomma, votare Biden. Billadene. Billadene, esatto. Non vuoi più sentire quel nome, è Billadene. Infatti Billadene è un personaggio così ben visto nella società di oggi. Allora, dico questo. Diciamo che quella dinamica che si innesca per cui un personaggio che ha un grande seguito mediatico si espone pubblicamente in alcune questioni politiche, questa cosa esiste anche in Italia, però più che altro esiste quando le dinamiche che si presentano fanno riferimento magari a una legge, facciamo per esempio la legge Cirinna sulle unioni civili, faccio un esempio, negli anni 70, negli anni 80, leggi sull'aborto, il divorzio, insomma, sui casi mediatici scaturiti da alcune proposte di legge importanti. Quindi anche in Italia artisti, musicisti si sono esposti pubblicamente sotto queste dinamiche. Poi la questione delle presidenziali in America è più comprensibile perché effettivamente lo schieramento funziona a due, c'è un personalismo evidente perché in America non votano neanche diciamo con l'idea del partito di riferimento o con l'alleanza di riferimento, guarda le dinamiche della politica odierna. È un test a testa. Sì, è un cost to cost, diciamo, no non è un cost cost, sto pensando. No, è un test a testa, sì, per cui, diciamo, test to test, un test to test, un face to face, un tetto a tetto, vabbè, un vis-à-vis, e quindi, diciamo, c'è questo fenomeno per cui questi personaggi, diciamo, espongono la loro. Di solito, tra l'altro, non porta benissimo, eh. Io ricordo l'anno scorso quando, perlomeno alcuni personaggi, per esempio, vicini agli ambienti della Clinton, eh, si sono esposti pubblicamente, per esempio l'ex presidente Obama, eh, o altri personaggi famosi, l'anno scorso, le scorse elezioni, quando è stato votato per la prima volta Trump, tutto l'universo sembrava contro Trump, qualunque tipo, mi sembra un personaggio famoso a favore, un texano con gli occhi di accio, non mi ricordo. Eh, però diciamo che non è una cosa che porta bene, lì è più comprensibile come evento perché effettivamente è proprio un percorso a due fino alla fine, eh, come la vedo? Non la vedo, sostanzialmente. No, non è che preferisco non vedere. È che è una dinamica che, come dire, mi risulta strana l'influenza di un personaggio che ha a che fare praticamente zero con la politica per 360 giorni l'anno, per tre anni, il quarto anno, si risveglia e dice votiamo Biden, votiamo Trump, ok, tu fa quel che vuoi, io vorrei fare un'analisi un po' più approfondita, un po' più politica, diciamo. Esatto, infatti secondo me il problema è proprio in questo, nel non considerare in maniera critica quello che poi ci dice. Certo, però comunque muovono, cioè cercano di muovere il pensiero comune. Sì. E ciò in Italia mi basterebbe, nel senso, poi ognuno il suo nel senso, io ho poi la responsabilità di approfondire, però il fatto che comunque un personaggio, non lo so, il fatto che un personaggio, un musicista, facciamo esempio il musicista, uno sportivo, spinga comunque il proprio seguito a ragionare su questioni politiche è una cosa che è giusta, secondo me. Sì, è giusta, però che lo spinga a ragionare. Ah no, a ragionare. No, ma basta, in America c'è molto, sì c'è molto vota per questo, ma c'è anche molto vota. Secondo me quest'anno è stato anche molto influenzato dalla condizione sociale post-covid e post tutto ciò che sappiamo, blacklist, blacklist, nether, insomma, tutta stessa cosa qui. Comunque, vorrei fare un piccolo appunto, l'occhio di ghiaccio tipico del texano, no? Sì, sì, i famosi, i biondi, altri biondi, occhiazzoni. Con l'occhio di ghiaccio, nel frattempo mi si è addormentato il basso vento, ma farò finta di nulla. Per esempio di quello che abbiamo appena detto, no? Ce lo può spiegare qui il nostro Premier, quando si è affidato a Fedez e a Chiara Ferragni per promuovere l'utilizzo delle mascherine. È stata una gran mossa, Premier. È stato attaccato sia lei che la coppia. Diciamo che nel 2020 dobbiamo cercare figure di riferimento che vanno oltre quelle classiche, quelle o meno seguite da giovani come voi, insomma. Pensando a due persone attualmente influenti nel nostro paese, mi sono venuti in mente loro due, insomma, che so che sono molto attivi socialmente e hanno anche aiutato durante il periodo di Covid con raccolte fondi, perciò ho pensato a loro per incentivare l'utilizzo della mascherina. Non è servito un cazzo, però ci ho provato. Anche di carità, signor Premier, lei come i primi due nomi che le sono balenati in testa, è stata la coppia d'attacco della sua amata Inter. Allora, Lukaku, Lautaro Martinez, erano subito sotto Chiara Ferragni e Ferez. Ma non erano del Foggia, signor Conte? Allora, sono stato del Foggia. Fui. Del Foggia. Lufui. Dopodiché ho avuto screzzi con la tifoseria e mi sono un po' allontanato. Dall'ambiente foggiano. No, ma ha fatto bene. Da quella curva, da quello stadio, sì. È il classico, no? Immigrato dal sud, dal nord, no? Sì, guarda, nulla di più classico, niente di più. Ovviamente per il nord si intende Roma, che comunque sia il grande salto di qualità dal sud. Signor Premier, lei che farà in questa ultima sera di libertà? Allora, in questa ultima sera di libertà mi goderò la serata, girando un po' a casaccio, insomma, come faccio ormai da tempo? Come è solito fare. Come è solito fare. Dopo le decisioni importanti. Io, in realtà, ragazzi, volevo un attimo, visto che è tutto il giorno ormai che mi vengono poste domande, vorrei farne una a voi, no? Giusto, signor Premier. Voi, ragazzi della vostra età, come percepite ora questo nuovo semi-lockdown? Comunque, trovarsi a casa dalle 22 alle 5 significa passare almeno quelle 2, 3, 4 ore la sera a casa da soli, ecco. Per voi cosa significa ora avere questo tempo a disposizione? Significa riposare, significa riflettere, significa investire in qualche progetto, andare avanti in qualche modo. Insomma, volevo un po' sapere come voi pensate di vivere questo lockdown, che potrebbe essere sia una cosa negativa, ma anche positiva, se alla fine vengono fuori delle idee. Facciamo un giro rapido di risposte tutti? Sì, sì, sì. Vai, inizia Mauro. Io ho FIFA 21 da portavanti, quindi direi che... Food Champions. Ah, c'è la Food Champions. Poi, da fine settimana, la Weekend League. Poi, magari, un giorno ci faremo anche la puntata, signor Premier. Se mi dà il suo account PlayStation 8, lo aggiungo e ci sfidiamo, va bene? Perché anche il Premier gioca la... ce lo possiamo dire, anche il Premier gioca la PlayStation. Assolutamente, anche con mio figlio, che è un grande appassionato di FIFA, è sempre stato il primo gioco regalato appena... Qual è il nome dell'account, signor Premier? Il nome dell'account? Peppe Premier 69. No, Guepepegno, che è un po' Peppe Conte, Guepepegno, Guepepegno. Pazzisco. Vai, Andri, te che farai questo? Penso che passeremo le serate insieme. Eh, ma infatti noi stiamo, signor Premier, noi stiamo cercando di creare una bolla controllata, testata, faremo dei tamponi e una volta che l'esito del tampone sarà negativo per tutti, ci rinchiuderemo a casa tutti insieme. E per essere produttivi nella collettività, insomma, e non perdere lo spirito di gruppo che è importante per mandare avanti i progetti e anche nel suo caso il paese. Quindi, giusto per capire, perché sentito mentre divoravo il mio spuntino all'altra stanza, che avete parlato finora di America, un po' di sogno americano, quindi quando parlate di bolla, mi fate riferimento un po' a quella di Orlando creata per l'NBA, giusto per capire? Precisamente, precisamente controlli periodici. Va bene. Per verificare... 25 campi da basket, sì sì. Per verificare la negatività di ognuno di noi, vivremo tutti insieme e condivideremo tutto, praticamente, però nel rispetto delle norme e della sicurezza per non ricadere in una situazione di criticità. Certo. Come lei ha detto prima. Ma che dice, possiamo farlo? Sì, dovete, insomma, diciamo che trovarsi a casa di altri è una cosa che in questo momento sconsiglio vivamente, ma trovandosi tutti allo stesso contesto, controllati, tamponati... Con dei test periodici, cioè... Con dei test periodici, credo sia una cosa che sia fattibile, ecco, non stravedo dall'idea, però la comprendo bene. La accetta. La accetta. Ringraziamo Peppe per questo. Anzi, hai dato uno spunto, adesso invito i miei colleghi, appunto Matteo, l'avete citato prima, Gigi, a fare una bolla. Giorgia. 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 Sono una donna, insomma, tutte quelle ricorrenze femminili. A proposito di sono una donna, sono cristiana. Parliamo di cristianesimo. La nostra provincia, ragazzi, è finita su tutte le pagine. Siamo famosi. Instagram. Instagram di meme. Ogni volta che diventiamo famosi non è mai per niente buono. Mai, cioè nel senso, le brands, come sempre, contraddistinguono per poche brutte cose, solitamente. Esatto. Con l'illuminazione delle palme di Civitanova di qualche anno fa. E' arrivata anche in America, raga, è arrivata anche in America. No, noi ci facciamo conoscere così. Signor Peppe, non è che ne pensa, cioè, del nostro approccio comunque al, non lo so. Allo schifo. Alla notorietà. Allora, quello che è successo, credo, vada fatto commentare direttamente a Papa Francesco, che poi mi sembra sia presente anche lui. Siamo in collegamento telefonico con Papa Francesco, sì. Eh sì, buonasera. Buonasera. Sua santità, buonasera. Sto parlando con il podcast di Mike Caroline. Ci sente? Sì, buonasera. Ciao Papa. Ciao, hola. Hola. Buona tardi. E, sua santità, noi volevamo un suo commento rispetto a due questioni principali. No, la domanda sarà direttissima. Ok, così, senza formalità. Signor Papa, è meglio l'avorto o la pedofilia? Io credo sia meglio la pedofilia. Se devo dare una risposta sincera, sì, ti devo la pedofilia. Ah. Ti devo la pedofilia. Siamo d'accordo. Quindi meglio la pedofilia. Sì, io non mi sento di andare contro a lo che ha detto il prete di Macerata. Di Macerata. Perché... È il ropero. È il ropero di Macerata. Perché siamo un po' tutti sulla stessa lunghezza d'onda, ecco. La pensiamo un po' tutti così. C'avete tutti gli stessi gusti. In Ciudad del Vaticano. No, ma sono gusti. In altre zone simili. La pensiamo in questa maniera, insomma. Ok, quindi aborto o no, pedofilia, così. Noi non ci dissociamo da questa... No, assolutamente. Chi sono gli operativi? Sono gusti, no? Noi non ci dissociamo. Sono gusti. Ragazzi, credo che non si va a intaccare la sensibilità di un chico o di una chica. Quando il prete va un pochito, eh? Un pochito. Non serve. E nada más. Le gusta un pochito. Nada más. Nada más. Bueno. Sassantità la ringraziamo tantissimo. Non le togliamo altro tempo. No. E chiudiamo questo collegamento. Perché tengo una chica qui con me. Non aggiunga altro. Sassantità non aggiunga altro. Devo andare che devo fare la preghiera. Devo fare la preghiera. Va bene. Proviamo la posizione di un missionario. Taglia, taglia, taglia. Va bene. Taglia. Tagliamo. Grazie, sua santità. A voi. A voi. Buona serata. A lei, a lei, sua santità. A lei, a lei. Benissimo, ragazzi. Scusate, il Papa è un simpaticone. Sono contento di averlo conosciuto. Scherzava, scherzava il Papa. Sì, sono contento di averlo conosciuto. È molto, molto, molto simpatico. È molto, molto anche un po' strano. Giocherellone. Giocherellone, giocherellone. Con i bambini giochi. Un ragazzo giocoso, sì. Ragazzi, io direi che a questa puntata non va assolutamente aggiunto nulla, secondo me. No, tranne qualche querera, non so. Che non arriverà perché siamo tutelati da sua santità. Da sua santità. Il Papa e dal nostro Premier, che ormai non possiamo definirci amici. Amici del governo. Guardi, per la profondità delle tematiche trattate vi direi colleghi a questo punto che non è che si dica niente di più da noi. Ci sentiamo legittimati e onorati da questa sua affermazione. Un piacere per me. Ragazzi, io a questo punto direi di chiudere dove vogliamo andare. Direi di fermare il nostro viaggio qui. Ringraziamo tantissimo il nostro ormai collega, il Premier Giuseppe Conte. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere aver modo di spiegare quelle che sono state le nuove direttive. Buon viaggio di ritorno a Roma, signor Premier. Vi ringrazio, cerco un attimo un passaggio per tornare a Roma perché come sapete treni 50%. Insomma sapete ormai tutto e devo trovare un modo per tornare a Roma. Lei è il Premier, sicuramente dovrà un... Sì, adesso vede con l'elicot, ma insomma... Una roba tranquilla, lo profile. Mi piace restare umile, questo devo dirlo. In bocca al lupo per il lockdown, signor Premier. Guardate, Peppe, noi c'è una domanda per rimanere lasciarlo i suoi oneri. Sì, mi dico. E se la situazione Covid lo permette, ci ospita in maniera a Foggia st'estate, una vacanzina? Guardi, devo un attimo sentire la famiglia, un po' tutta la gestione, ma credo che non ci sia assolutamente nessun problema. Anzi, lo faccio super super volentieri. Beh, basta che non andiamo allo Stato. Abbiamo sistemato pure la vacanza. Perfetto. Tanto paga lo Stato, i contribuenti. Sì, in qualche modo facciamo. Ringraziamo tutto il mezzo giorno che contribuisce alla nostra vacanza. Che non contribuisce alla nostra vacanza. Era anche ora, direi, Jack. Era anche ora che lo Stato ci pagasse una fottutissima vacanza di relax, insomma. Beh, ragazzi, direi di salutarci. Beh, Carlo, prima di chiudere così non dovremmo, tipo, spiegare un po' la nostra ironia. No, perché? No. Dici di no? Dici di sì? Oh, sì, forse stiamo a rischio penale qua. Ma è Satira. È Satira! È Satira! Dove è stato spuntato a Sagri? Dove è Sagri? Ovviamente noi scherziamo sempre, non ci permetteremo mai di difendere chi tocca i bambini. E legittimare l'esatto, legittimare l'esatto. Esatto, soprattutto se sono predi, perché ci stanno sul cazzo. Sto studiando proprio in questo periodo diritto della comunicazione e la Satira non è correlabile. Ma lei non è avvocato, signor Conte, perché studia diritto ancora? Perché il nostro premier non smette mai di imparare. Mi piace, sono un pozzo di conoscenze e non voglio mai smettere di imparare. Bene. Bene, ragazzi, è tutto. Ora possiamo chiudere? Sì, grazie, sì. Grazie Ander, grazie Jackie, grazie Torres, grazie maestro, grazie ancora al nostro Giuseppe Conte. Anche al Papa, a Papa Franz. Ah, ma è la sua santità, ma la sua santità è così alto celestialmente che è che santi i nostri cuori. Ci sentiamo a quanto pare alla prossima puntata, se ce ne sarà una a questo punto. Se non stiamo in tribunale, se no trasmetteremo direttamente al tribunale. Bella raga, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao a tutti.